Manina qua sopra, via di sinistro lì, pede destro sul freno e ti spingo un po' in avanti. Come ti senti? Prova da due sterzate, sei un po' più in dietro. No, così va bene. Va bene così? Sei comodo? Prova un po' a sterzare? Ok, no no, ci siamo, è la sua posizione. Bene, lui ha due giri, buon divertimento, godi lui ai tutti. Grazie. Ok, ora, piede sul freno. Sì, l'unica cosa, ti chiedo una cosa, il sequenziale devo cambiare tutto io? Fai tutto tu, paletta di destra, sali, sinistra, sinistra, sinistra. Io non ho la prima volta, automatico. Ah, è facilissimo, guarda. E per partire cosa devo fare? Mi metti il piede sul freno, tiri la paletta di destra, va su di me, clic, ok. Ok, adesso ti metto manual, siamo in prima, ogni volta che tiri la paletta di destra sali di marcia, viceversa la sinistra scala. Ok, sì, no, benissimo. Via che andiamo, andiamo a destra, non lo usi mai. Non lo uso mai, perfetto. Non lo usi mai. Posso andare? Andiamo, andiamo a destra, esci dal parcheggio e andiamo in fondo. Ok, metti già la seconda, in corso e borsa andiamo a questa velocità, dopo quando verifico che non ci sia nessuna pista entriamo e senti il motore che è insomma questo bel motore, 10 cilindri aspirato. Allora, vediamo un po' come siamo messi. La pista è libera, via che andiamo. Ok. Ok, le prime tre curve sono tutte curve, destra e la terza. Prendi mano al gas, via. Gas. E allarga. Va bene, terza. Via, il freno dentro, punto il gas. E mi allargo a sinistra. Rino, freno, terza. E mi promettemi si porta più corta, rimedi terza, perfetto. È tutto terza. Ed esci in slancio. Via. Quarta. Freno, terza. Prima freno con i scali e mai il contrario. Va bene, terza in questo pezzo. Guarda già, la successiva che ho tornate. Facciamo di terza. Freno, chiudo la linea, mi metto, accelero. Eccolo. Metto quarta. Faccio una vicina biappiata. Mi naso ancora. Freno, terza. Via. Questa seconda. Io ne assumo la volta, eh. Accelera l'alto. Guarda. Freno, terza. Frenalo un po' di più perché ho visto quanto è stretto. Basta. Giù in fondo c'è un tornante da terza. Poi arrivo. Poi arrivo. Prendo stato. Va bene. Resto sul treno. Perché guarda com'è stretta la curva. Cerca di uscire bene a destra. Perché poi c'è una controturva a sinistra. I do. Prendo acelero. Mi allargo. E guarda. Mi guida. Mi guida. Mi stanno a sinistra. Arrivo. Mi stanno a correre. Mi stanno a correre. Tia. Il treno. Tieno. Il filo di gas. Il freno. Tieno. Porco. Prendo acelero. Mentre c'è l'unione all'arco, parta, freno terza, via, freno, freno ancora, prendo la frena, tengo un po' di gas, frenatina per abbassare il muso e la chiudi, e dolcemente troppo volanti, da, se ti è usato un po' meno, accelero, guarda, freno forte, tenza, punto il gas, accelero l'arco, guarda, freno forte, tenza, ok, se è un pelo lungo con la frenata, dico, occhio che questa, questa la, facciamo qui, come è, come è, passiamo lì, segui, slow, ecco, quindi hai un blog? Sì, ho un sito internet, il blog è pubblicitario, ah, va bene, allora, guarda, ce l'andiamo a parcheggiare dietro il Ferrari Nero, si, ti metti già sulla zona rossa, vai ancora più avanti, c'è ancora, 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 stop, fermo qua, tiro, ah, ok, vai un pelo più avanti, scusa, ok, stop, tiro le due palette contemporaneamente, e voilà, scherzo, e ci siano, grazie, grazie, vi ringrazio, ciao, alla prossima. Allora com'è andata?